Arianna Lentini, è bello ritrovarsi a questa festa di una fiction che appassiona davvero il grande pubblico, un medico in famiglia. Tu ne hai fatto parte all'ultima puntata della nona serie. Sì, interpretando il ruolo di Alice, la fidanzatina di Bobò. È stata una bella esperienza immagino. Esperienza meravigliosa, veramente, veramente, veramente bella. Ti sei ritrovata in una famiglia davvero unita. Sì, perché arrivi sul set e pensi di trovare un vero e proprio set. Invece, man mano che ci vivi, giorno dopo giorno, capisci che in realtà è una famiglia vera e quindi ti accolgono, ridi, scherzi e allo stesso tempo se c'è un problema si può condividere con tutti come in una famiglia del resto. È passato troppo in fretta tutta questa bella esperienza? È passato in fretta, però me la sono goduta. Mi è piaciuto tanto, veramente, e spero di esserci nella prossima serie, però mi è piaciuta tantissimo.